Sì, grazie Simone per avermi introdotto in questo modo, mi ha fatto un attimo sorridere quando Cristina ha detto di apriamo le porte del nostro hotel e noi apriamo le porte delle vostre aziende, di cosa ci occupiamo? Quando mi chiedono il lavoro che faccio, la prima risposta è faccio lo scassinatore. Poi guardo un po' lo sguardo meravigliato, mi corrego e dico effettivamente facciamo i serraturieri, facciamo perché siamo otto serraturieri, ho dei dipendenti che servono questo tipo di attività, abbiamo quattro officine nobili che sono disponibili 24 ore su 24 e ci occupiamo di aprire le porte quando siete fuori casa, quando siete dentro casa, se vi siete chiusi dentro in bagno, ma li abbiamo poi in ritardo, perché intanto gli è già un po' il locale, ma soprattutto ci occupiamo di gestire e organizzare le chiavi delle aziende di grossi complessi. Cosa vuol dire organizzare le chiavi? Vuol dire dare la possibilità di avere una chiave che ha molte porte, di avere alcune chiavi che aprono determinati locali, di sapere sempre chi può entrare in un locale e quando. Vediamo la possibilità di accedere ai locali con l'informa digitale, con il vostro telefonino, con delle tastiere che limitano i passaggi, sono dei veri e propri controlli d'accesso. Avete anche la possibilità di aprire il vostro ufficio magari mentre state seduti sulla stradio alle Maldive e con un semplice sms comunicate con la vostra azienda. Tutto questo lo svolgiamo in centro traviso, il marchio dell'azienda è Casa della chiave e operiamo ormai da circa 40 anni in città. Collaboriamo poi anche con Forza dell'Ordine, se vi trovate microspie in casa potrebbe essere che siamo passati anche noi, però per tranquillizzarvi normalmente lavoriamo per gestire la vostra sicurezza e quindi per tenervi sicuri dentro le vostre abitazioni e dentro la vostra casa.